Bene amici di HDBlog, oggi proviamo Honor 6 Plus per adesso si trova solo in Cina, viene importato da qualche sito anche in Italia devo dire che l'allievo sta per superare il maestro perché Honor, che è uno spin-off di Huawei, fa veramente prodotti interessanti e questo Honor 6 Plus ne è un esempio un top di gamma al prezzo di un medio di gamma E sì, eccolo qua, uno dei telefoni che ultimamente mi ha convinto di più è anche Dual SIM, questo 6 Plus andiamo a vedere la confezione, sempre un po' braccino corto i cinesi perché non mettono le cuffie auricolari ma carica batteria da 2A con carica abbastanza rapida e cavo USB iniziamo dal centro premendo il pulsante qua a destra c'è oltre al pulsante accensione, spegnimento blocco il pulsante per alzare e abbassare il volume tra l'altro molto ben fatti in metallo non so se riuscite a vederli, sono anche zigrinati per aumentare il grip due slot, uno nano SIM, uno micro SIM quello nano SIM è in condivisione con la micro SD però non è un drama perché avendo 32 GB di memoria integrata diciamo che non sempre necessaria l'espansione SD jack per le cuffie, secondo microfono, infrarossi sotto il primo microfono, USB, micro USB e qua dietro due fotocamere da 8 megapixel con il doppio flash LED molto belli i materiali, vetro, vetro e cornice in metallo tranne sotto che in plastica per le antenne e vi parlo un po' di dimensioni 150,5, 76, 7,5 minuti di spessore 165 grammi che però sono molto ben distribuiti fa sì, l'effetto padella è sempre un 5 pollici e mezzo ma si tiene comunque abbastanza bene in mano schermata di sblocco con dei link rapidi possibilità di modificare in maniera automatica gli sfondi batteria, batteria 3600 mAh, ottima l'autonomia solita giornata stress, l'ho chiusa con il 30% residuo senza risparmi energetici che pur ci sono c'è il LED di notifica qua in alto a sinistra prima camera da 5 megapixel, sua seconda camera la capsula auricolare e i pulsanti come vedete sono sul display e sono anche personalizzabili vedete si può anche attivare qua il pulsantino per le modi nel notifiche, tra l'altro se entriamo nell'opzione vediamo se mi ricordo dove è, aspettate perché c'è un'opzione che permette di attivare eccola qua, touch plus, mettendo sopra una pellicola con probabilmente serigrafati i pulsanti qua sotto togliere i pulsanti display e metterli sulla scocca prima o poi dovrò comprarla e cercarla questa pellicola dei miracoli processore Kirin 925 non so perché ho spento il display perché qua in fondo sulle informazioni sul telefono abbiamo vite e morte e miracoli di questo Honor Kirin 925, 3 GB di RAM di cui 21,6 liberi full HD, vi parlo del display prima vi dico che la versione Android è la 4.4.2 e la Emotion UI è la 3.0 allora, display 5,5 pollici full HD per 401 ppi questa è la galleria divisa per periodo se vado qua vedo gli altri album entriamo nell'album di testa nella palette colori tra l'altro colori e bianco settabili ma già con il settaggio di fabbrica è un display veramente molto buono l'angolo di visuale è tipico degli IPS quindi vira leggermente il colore ma nulla di che quindi direi buono ottimo sensore di luminosità ottima la riproduzione della griglia dei pixel ottima la resa dei colori ottima la definizione e anche il nero perché il sensore di luminosità funziona bene quindi lo bilancia bene in base alla luminosità ambientale qua ci sono le cabine insomma alla faccia del display 2K questo Honor 6 Plus ha veramente un grandissimo display parliamo di Wi-Fi Wi-Fi intanto vedete qua i toggle rapidi che possono anche essere espansi Wi-Fi BGN e c'è anche AC quindi dual band Wi-Fi direct DLNA Miracast c'è praticamente tutto se entro nelle reti mobili il telefono è 4G categoria 6 quindi 300 Mbps in download poi H6 Plus e anche LED tra l'altro è dual sim e la possibilità se vado indietro di gestire le due sim è studiata bene accensione e spegnimento di una rispetto all'altra e switch rapido del 4G su una sim o sull'altra senza bisogno di togliere e rimettere le varie sim tra l'altro schermata home semplificata oppure standard vi faccio vedere un pochino i menu delle impostazioni sfondo temperatura colore ecco sullo sfondo qualcosa da dire perché questo telefono è il primo che ha gli sfondi 3D ce ne sono un po' qua vedete a disposizione e guardate lo sfondo vedete oltre a avere lo sfondo 3D cioè quando sposto il telefono si muove leggermente ci sono anche vedete qua i widget 3D li vedete se tengo premuto qua sulla schermata home e vado dentro nei widget abbiamo una serie di widget orologio doppio orologio musica una finestra per mettere dentro qualsiasi fotografia oppure il meteo animati in questo modo tra l'altro possibilità di mettere il layout addirittura 5x5 che sfrutta molto bene il PPI del display transizioni e widget personalizzabili non c'è il drawer quindi non c'è il pulsante menu ma tutte le applicazioni sono sulle varie schermate che ovviamente possono essere aumentate di numero torniamo alle impostazioni che tra l'altro vi faccio sempre così ma in realtà ho comodamente messo qua risparmio energetico settabile su tre diversi livelli con l'ultra risparmio che fa risparmiare veramente tanta tanta energia c'è il don't disturb la gestione delle notifiche ecco devo dire che il problema che ho notato con questa ROM che è cinese ma pochi problemi a italianizzarlo tra l'altro la lingua italiana è già presente di default però ogni tanto si addormentano un po' le notifiche è una problematica che ho notato su molti Huawei o comunque telefoni con iMotion UI quindi anche Honor comprati all'estero quindi con ROM non italiane diritti gestione delle autorizzazioni insomma si può personalizzare molto a fondo questo telefono e volevo far vedere anche come le applicazioni possono essere mandate in rete con i dati cellulare oppure con il wifi selezionando applicazione per applicazione ci sono un po' di controlli del movimento sono qua il più comodo forse il doppio tap per accendere il display il bar di nariziazione qua sotto è personalizzabile interfaccia con una mano è possibile attivarla cosa succede? succede che vedete qua sotto quando vado a fare questo gesto la UI si sposta a destra a sinistra si sposta anche la tastiera di composizione modalità guanti ma andiamo a vedere come funziona questo telefono parliamo di parte telefonica e chiamiamo subito il 190 c'è la ricerca rapida in rubrica avete visto quando compongo un numero possibilità di utilizzare la sim 1 oppure la sim 2 alziamo il volume tra l'altro i volumi sono tutti qua allora la parte telefonica è decisamente buona si sente bene ricezione buona anche in 4G nessun problema con Vodafone che tra l'altro attiva anche il categoria 6 il problema è della capsula auricolare vedete anzi l'altro paletti sistema che è piatto qua su una superficie piatta quando lo andiamo ad appoggiare così il suono si attenua veramente tantissimo parliamo di parte messaggistica più che parte messaggistica facebook quindi tastiera e reattività del telefono generale che è veramente buona aspettiamo che si carichi un attimo vedete è fluido segue molto bene il mio dito proviamo a scrivere qualcosa è la swipe per Huawei la tastiera vedete molto molto veloce ho fatto un errorino ma devo dire che è buono sia il feed della vibrazione sia la sensibilità generale della tastiera magari ci poteva stare la prima fila di tasti ma ci sono tante tastiere che si possono scaricare per quanto riguarda Gmail ormai il client di Gmail lo conosciamo funziona bene anche qua fluido sia entrare in una mail sia utilizzare il pan e il pinch per zoomarla multitasking ve lo faccio vedere non velocissimo ad aprirsi però poi comodo da gestire si può chiudere un'applicazione swipeando verso l'alto boccarla verso il basso oppure scorre in alto con due dita per chiudere tutte le varie applicazioni parliamo di browser web ecco questa forse è la parte più scricchiolante del telefono Corriere della Sera che era già in apertura in background aspettiamo che carichi vediamo l'altra pagina la chiudiamo torniamo al Corriere della Sera e come su tanti altri honor il browser vedete non segue quello che io voglio fare non sto a scrivere nel campo di testo su hdmotori perché più o meno la sensazione è la stessa e allora vi faccio vedere al volo invece come funziona Chrome Chrome che funziona decisamente meglio anche se non è il mio browser preferito però devo dire che su questo honor vi consiglio di scaricare Chrome o un browser alternativo per avere prestazioni decisamente migliori e lo vedete lo vedete qua torniamo alla home page vediamo la parte gaming entriamo qua nella cartella che ho creato per i giochi mentre carica Real Racing vi parlo un po' di ergonomia allora è grande è inutile negarlo 5 pollici e mezzo vedete col dito dove arrivo però devo dire che non so lo spessore limitato il fatto che comunque dietro il vetro abbia un buon grip mi ha permesso di usarlo con una mano senza particolari pateni è meno scivoloso di altri device pur essendo grosso quindi con una mano si fa fatica a usare aspettiamo che ci chieda la calibrazione ok ci l'ha chiesta processore Kirin 925 quad core A15 e quad core A7 quad e quad quindi octa core 1.8 gigahertz massima frequenza di CPU e la GPU e la Mali T624 vediamo come si comporta con Real Racing adesso proprio vediamo se scalda il device devo dire che il frame rate è alto reagisce bene all'accelerometro vediamo la prima curva devo dire che gira veramente bene vedete non ha cali di frame rate usciamo da Real Racing forse avevo messo in alto perché ho girato dall'altra parte i tasti funzione e adesso andiamo a parlare di multimedialità perché ha una particolarità ovvero la doppia camera questo Honor vi invito a leggere un articolo che abbiamo fatto su HDblog sul funzionamento della doppia camera non sto qua a spiegarlo però fondamentalmente serve a poter scattare delle foto e a modificare il diaframma vabbè qua posso modificare il punto di luminosità ma se vado a apertura ampia posso modificare il diaframma vedete cambiando la lunghezza focale quindi posso fare delle foto con degli effetti molto particolari poi ve le faccio vedere ne ho scattate un po' e poi vi faccio l'esempio lo trovate comunque tutte le foto scattate sulla pagina della recensione queste tutte le opzioni disponibili sono le classiche opzioni stiamo nelle impostazioni vediamo come la risoluzione massima sia di 13 megapixel perché le due camere riescono a interpolare e aumentare gli 8 fino a 13 megapixel qua tutte le varie impostazioni fin troppe il 90% delle persone usa il punto e scatta possiamo entrare in galleria oppure nei video che possono essere girati al massimo in 1080p camera anteriore 5 megapixel con la possibilità di fare i gruffis quindi la possibilità di fare scatto centrale destro e sinistro lo abbiamo già visto su praticamente tutti i Huawei andiamo nella galleria sbaglio sempre ok ci siamo qua galleria e vi faccio vedere le foto che ho scattato ecco questa è la foto che ho scattato con la funzionalità della doppia camera allora vedete così è a fuoco tutta la foto io posso spostare il cursore per cambiare la messa a fuoco vedete che così a fuoco solamente la macchina man mano che sposto il cursore il fuoco dello sfondo varia che si mette sempre più a fuoco un po' come succede su HTC M8 tanto per intenderci devo dire che però su HTC questo effetto viene reso un po' meglio anche se la dividizione è più bassa perché ha una camera con meno megapixel qua la foto fatta a buds una foto fatta al caffè insomma tanti effetti la resa forse migliorabile direi che prende un 7,5 grazie anche ad alcuni effetti che si possono fare molto belle le foto quando c'è tanta luce quando c'è poca luce così così torniamo alla home i video gli do un 7,5 perché hanno una qualità inferiore un 6,5 rispetto ad altri device fuoco un po' lento e video un po' scattosi possibilità di andare questa è la rom cinese ovviamente ci manda sui server cinesi per vedere i video online ma andiamo a vedere il video in 2k come gira e come questo processo lo fa girare benissimo grazie anche a questo display ovviamente c'è un recite verso il basso perché il display è in full hd e il video in 2k che comunque viene reso molto bene e soprattutto vedete molto molto fluido c'è la radio FM e per completare il quadro andiamo ad ascoltare Michael Bublé eccolo qua un dance anche qua la musica online ovviamente torniamo indietro a play volume non altissimo ma molto ben riprodotto sentite come si attenua vedete e questo è il problema di cui vi accennavo prima poi ci sono tante applicazioni di Huawei prima su tutte la possibilità di modificare i temi la gestione del telefono che vi ho fatto vedere prima praticamente raggruppa un po' tutte quelle funzionalità di personalizzazione spinta del telefono negli strumenti possibilità di utilizzare l'infrarosso per controllare tv condizionatori set to box lettori DVD vedete è tutto in italiano interfaccia possibilità di scrivere tag NFC soprattutto una cosa mi è piaciuta nel calendario eccolo qua risolto il baco che quando avevamo più appuntamenti nella stessa giornata e usavamo la visualizzazione mese più appuntamenti non mi permetteva di vedere gli altri invece qua con questa versione del software finalmente questo è risolto ovviamente si possono vedere qua le notifiche noi l'abbiamo comprato da top reseller store a 399 euro ovviamente import esiste solo cinese per ora ma arriverà tra qualche mese in Italia a un prezzo non ancora definito però attorno i 350 euro sicuramente un ottimo terminale soddisfacente in tutto dai materiali alla Emotion UI che convince parecchio un solo esempio di ottimizzazione guardate è dual sim vedete le due indicazioni degli operatori sono scritte là in picco in alto a sinistra per dare più spazio alle varie notifiche insomma un vero top di gamma che costa come un medio di gamma qualche no di configurazione con la versione cinese facilmente superabile dagli smanettoni un po' meno magari agli utenti pigri o non esperti ai quali consiglio di aspettare la versione italiana che proverò e che sono sicuro sarà un best buy per HDblog Andrea Caleazzi Grazie a tutti